buonasera a tutti qua dal canale del mondo direttamente da ostia siamo in compagnia dell'esperto volt ampere e tutto ciò che riguarda l'impianto elettrico e l'alimentazione delle nostre batterie di servizio a bordo dei nostri amatissimi mezzi questi pannelli solari come devono essere montati quanti bisogna montarne come in parallelo in serie come funziona l'optimum aperto di volt ampere e anche watt che sapete che ha dato al prodotto dei volte per gli ampere io non vi dirò quale la soluzione ideale vi spiegherò cosa sono i volt cosa sono gli ampere e cosa sono i vatt innanzitutto vi consiglio di passare alla nuova tecnologia mpp smettiamo di tagliare questo voltaggio prodotto dal sole e adeguiamo la potenza inseguendo il voltaggio corretto sfruttiamo al massimo i nostri pannelli e prendiamoci tutti i watt che servono per le nostre batterie ma quanto possono assorbire le tue batterie lo scopriremo la prossima puntata